Il burro del luteo 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 Tu ne so, bhai! N'e so, Baha Raja! Come a pensare, Sanzangra? Come a' come, chi è la persona, che vive le vivi, come sei la mia! Chia conoscenza! Come a' come, tu s'è la regno, tu dà la tua presa, tu non si fai la tua alla! Pusa! Il mondo del mondo è verso l'aggiente, ma è vero che il mondo è vero, non è vero che il mondo è vero che il mondo è vero, il mondo è vero che è vero che il mondo è vero. Svegli, chi è il mondo è vero che tu siamo? Non ti ho visto il mondo? Ti ho visto anche il mondo, ma non mi piace è il mio paio mi dico poi caro qui o pico sono mano con te darò la vacca noia ruta che barra maestro sara con unico young di ohio maianco me a qui o ho chacolo a qui o ho chacolo e ma nasa mito sabe pari chacini ansapati harvahana janu ansapati harvahana janu ansapati harvahana janu ansapati harvahana janu phima dikha tu shukato to eo pachi kish pwanda harvahana janu ansapati harvahana janu ehtle shu dikha ansapati ehtle jagatna ghadwaiya brahma ji ane harvahana ii shankar ji no vahan nandi bad ehtle aah malakni maalipa brahma ji eaj vada ghojtada karayache emne pani dhikra aah kavit tu kya thi jane? maa 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 ajo ghoj khush chou ghoj khush chou brahma ji ee karilii bhol brahma ji ee potej shudharilii dhich ehtle? maa eek mahatmane aah kavit ni khutti khađiyo među dhi apanu bachan rati uche maa sachu bol bhima kyaak kyaak maara aikha ni khutti khađi to ee nathine? haa? bol bhima bol haa? 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 maharaj ki isha别 haa? haa? Wow So it's all kya is eh haa? Kya kutauan kayi principi ye. haa? Hoa? begine 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 Per me ne risposto, qui c'è, cioè? È tutto il baggage, non è? La scola, non è venuta… ...Osi il regio di davanti... ...d alto l'acqua in sede... ...si il genere di pensare che il segno della nuove ricordi non è vero. Non è vero che non è vero. Non si è venuta. Gio, Burelidhar! Burelidhar, Pramun, Hè Burelidhar, Mare Bhow-Bhow-Nee Tappasciat hache foli-che Mare sohaag, Mare sohaag hache Jeeve-che, Pramun, Mare sohaag hache Jeeve-che Pando, Pantumana akevi Kaprii kasutti maan akevi roo-che, Pramun, Sohagan hovaa chata, Mare soona kapad maa Kankun no chan no nathik kari shakti Tara anvat kaaganiya ne, Hoa keem karii ne maa chee shakko, Pramun, Keem karii ne maa chee shakko, Pramun. Gori, le. Maa? Maa? Tara kapad maa chanlo? 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 Maa? 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 Chanlo? Maa? 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Oh ah 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 ah... Tunggu bile... Ah 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 ah... Ah 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 eh... Ho, ho, ho. Ah, quindi io lo so, come tu fai giugno, e tu fai guardi a te fai guardi, e tu fai guardi questo uomo, e tu fai guardi. Oh, 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 oh! Il mio amato, il mio amato, il mio amato, il mio amato è necessario di fare il lavoro, ma è il mio amato. Chissà! L´à! L'è? L'è? Ma so che che a sembra Sì, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Sì, non c'è nulla, 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 non c' A presto, a presto, a presto. e ne vedi a raijna karabharonu giello kianthi laggiun raijjana ufadar sardaro ane prajajanon mania jana avta aje khuub jannan thai che che lok prati nidhi dvara raijno karabhar chalè evu svargi maharajah sangraam sijino sapno aje poora thai che mania jana avta khuub jannan thai che che aapna phatega raijna khuub jannan priya sewa bhabhi ane jamaa mardh bheemsi nne aastirajno karabharipad sumpa maaveche prohidji oom swastina indro radhashravaha swastina haa pukha vishwaveda swastina stavaksho arishthane mihi swastina oom brehaspa tiradadhatu kalya namastu maharaj sangraam sijino jay! maharaj joravarsinji jay! maharaj joravarsinji jay! maharaj joravarsinji raijna vufadar sardarho bhaiyo bheemno ane maatao maharaj joravarsinji jay! maharaj joravarsinji jay! maharaj joravarsinji jay! 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 maaf karvani uo jahirat karu chio laakha maara bapu e jepan tani kai kai uo e nama te ho maafi maagu chio e mi nè manai karii chio che tàre laakha nè kadhi margun nè chata hai hoon aaj bapu tii chupaii nè tani mađava avi chio rupa, tui iqtta tato paar khaj hoi liye pann laakha, hao e tara vina eek pard panna jiwao mushkil chio rupa, hai gyan haal tato maara pann eva chio tò laakha, koji evo maara kaar kya aapne janmo janam tathje raiye rupa, chio tu maane, tui eek maara k batau maara kai ho maara kai ho maara kai aiaan chio 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 a te giù a nero Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info A presto. 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 A presto.